c'è uno qua davanti morto girato e ho visto una luce lì a destra era la mia si guardava intorno sembrava da solo si era quello che sparava prima lo scavo l'ho perso però non so dove cazzo l'ho ammazzato si avanti dove? la parte nuova l'ho sparato in testa vabbè lo scavo se lo scavo nella parte nuova si dove hanno aggiunto quindi è più o meno in mezzo aia 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 porco dio il cazzo di baldi sto merda lo manco e gamba immediatamente non potevo manco correre via vedo quello con il fall quello con il fall mi sa che è morto ah no quanti cazzotti metri sono ma sei tu questo? si sicuro? io mi devo dire che ho tirato tutto qua grazie se cazzo Cosa c'è qua? Fall? Ah, non c'è spuglio? Sì, non c'è spuglio. Dove state passando? Dalla spiaggia. Siete già andati avanti? Sì. Sì, sono già praticamente dove si falla questa. Guarda dietro di voi. Ma questo mi sa che aveva ammazzato uno della scorta. Eh, io c'avevo uno della scorta qua a destra. E' te che ti sta avvicinando? Sì. Sì, siamo noi due. Io sono l'ultimo. C'è il fallo, se lo volete. Mi ha preso l'SV2. Moddato? Uh, ha ucciso Sturman questo. Ma va? Grande. Ma c'ha la chiave. Tu ce l'hai già? Me l'abbè, me l'abbè. No, non ce l'ho. Ma è perché lo utilizzo solo. Ah. Prendete il fallo. Non so dove sei. Vabbè. Vabbè. Io sto guardando per l'altro. Eccoli lì. Dove? Dove? Eh, non lo so ma sono spostato. Per più verità. Dove a me penso. Io sono alla tenda. E c'è anche la flash drive. C'è la flash drive. Mi serve l'ultima. Ok. C'è quello sopra. Sopra dove? Io ho. C'è quello che corre, non è io. Ok. C'è il mio qua, Mario. Ti anni. Oh, il legno è così f*****n max. Non li hai visti, ma loro hanno visto te. Un classico. Sì sì. Eh, vabbè. Scalier. Questa parte sembra libera. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dove? Sotto sopra? Alla capannetta di mezzo. C'è la capanna, quella rossa. Al rosso? Ah no, aspetta, è il primo rosso. Eccolo là, che è fermo e impaurito. Dove dovresti essere tu, guardare le tasse di legno per andare giù alla capannetta. Arrivo. Io al rosso da qua non ho avanti. Ah, lo vedo, lo vedo, lo vedo, lo vedo. Ti ho spostato, lo è sempre lì. Ti ho spostato. Eccolo lì. Eccolo lì. Adesso, il grigio è quello qui o so? No, no, è rosso, è rosso. Ah, è rosso. Ok. Sto buttato in mezzo alle tasse di legno del rosso. Ok. Proprio dentro. Ora è lui. È lui ora che mi spara. Eh, ma sponso tanto, dipendi. Allora, aspetta, si va da dietro. Da dove? Dal grigio. Non ho idea di dove sia. Io sono qua incastrato. Io vengo nel grigio, eh. Ti stai sparando a te, ora. Sì, sto sparando io. Ah, sì, sì. Ok, io sono nel grigio. Penso l'hai fatto. Uno è morto. Ok, sono io nel grigio. Ecco l'altro. Mi ha fatto flick l'arma. Eccolo lì. Eccolo lì. Vecchia. Mi ha fatto una gamba. Non lo vedo, io non ti posso aiutare. Prima, dove è? Un giro. È in mezzo alle catastre di legno sotto, dentro al rosso. Ancora lui. Che non so se l'ho fatto. Che è che sta camminando in mezzo? Io, io, io. Provo ad avanzare. Sto venendo contento. Lancio una granata, così vediamo se si sposta. Ok, penso di averlo fatto, sì. Sì, deve essere della scuola. Sì, l'ho fatto, l'ho fatto questo. Ok, io sono nel rosso. Oh, yes, quello col va l'ho fatto. Eh, quello che mi laseravo. Avevo sparato anche io un sacco di copie, come ho detto. Dov'è? Fommelo vedere, sto merda, se è lui. Sì, sì, visore notturno, VSS. Vi ho lasciato l'SVD. Ma dov'è? Non vedi, sdraiato. No, non sono vero dove sta. Cazzo, c'ho il tunnel vision, non vedo un cazzo. Ah, ok, ora ti vedo. Ah, ti sono preso i proiettili? No, cioè, quelli del VAL, sì, ti lascio quelli del VSS. Te li droppo per terra. Eh, vuol dire, metti li, fa qualche... Sdrai bene, li dava io. Sdrai, mi sparava con tutto, sto qua. Ma questo qua, l'SVD, non è che c'è l'hastro qua. Era quello che era... No, era quello di strumenti. Sdrai capito, Stroman morto, la scotta era ancora in piedi. Dove l'hai preso in testa quello lì? Ho un colpo al petal. In testa. Ok, vado ad aprire... Ah, beh, partiamo la cassettina. Dove sei il colpo? Dove è la cassettina? Dov'è? Sono sempre nel rosso. E' questa? Ah, ok. La cassettina è la pila di legna centrale. Sto merda qua, è scappato. Adesso il boss, l'ho fatto il giro e sono andato qua dentro. Ah, sta facettino qua. Oh, c'è tanta roba qui dentro. Quanti Rolex ti trovi? Vediamo. Non c'è un vall. Io soffatto, ma non c'è un vall. Io soffatto, ma non c'è un vall. No, no, l'ho trovato. Speravo un'altra cosa. Però vabbè. Tu hai trovato un vall. Un APS. Una... Che è un APS? La pistola, quella automatica. Ah, APS, ok. E una... Un M9. Una beretta. Basta, whisky. Quella roba lì non c'era un cazzo. No. Che sfiga. E il vall. Uh, c'aveva gli SP6, l'amico della scorta. Sì, sì, amico. Ma discorso. Cioè, non mi ha toccato l'armatura una volta. Ancora l'armatura è come sono entrato nel raid. Cioè, non mi ha toccato l'armatura una volta. Come il cazzo fa la gente a giocare con 50 di fove, poiché, io. Io gioco con 60. Figura avere 110 di fove, figure. Ma il problema del fove in questo gioco è che non ti rende risa alcune cose. Dove sei? Sì, non so. Io sono già qua. E quindi quando miri, ti rende risa le cose e perdi ancora più tempo. Dove siete? Sto andando la roccia per la quest. Eh, io sono già qua. Ma se io prima ho messo la bottiglietta d'acqua. Se rientro di nuovo, devo mettere di nuovo la bottiglietta d'acqua. Allora, non, 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 non. Grazie a tutti. Vuoi vedere se va? No, l'ho già guardata quello lì, non so. No, no, non è tutto la schiavo, non mi interessa la schiavo. No, non si estrae. L'hai poggiata la roba, Mario? Ah no, non ti è in casa. Stai pericolo. Eh, non mi arriva. Fammi scendere, fammi scendere, fammi scendere, fammi scendere. Quasi la gamba zia. Ringrazio che non ti ha ucciso. Ancora vivo? Uno no. Quasi sono? Ancora uno ce n'è. Morto? Ok. Aspetta, aspetta. Magari... Ok. C'è ancora? Devo provare a matarlo con la scabla. tutti ora stanno volendo che succede fatti la questione degli scavavoti sta arrivando un altro senti ancora uno a destra io non lo sento non lo vedo che sono ancora vivo eccolo qua eccolo qua fatto? ahah uh la mara che è bella davvero? che culo ce l'hai già? si però sai è utilizzi però te la mollo tanto ne ho un altro ancora te la mollo dietro dove sei? come dice cicciolini oh merda oh no perchè spara? mi ha parecchio di... nooo se l'hai mangiata tarco perchè forse l'hai troppo forte sei lì davanti sono io alla malla lui si la puoi usare 25 volte e poi devi trovarne una ah però infatti non volgono volgono 60 volte è un staff ecco io la mia prima l'ho utilizzata 5 volte io sono la 2 io sono Extracto lui è perso amici io sono Extracto io sono Extracto ciao